Ancora Zulina, limita l'area, libera il destro, ed è un duo pazzesco, da parte lì, Zulina, Zulina, quello meraviglioso. Zulina con il destro, oltre la scuola, direttamente da caccio di punizione, dopo 25 minuti, passa il battaggio in parete, con il gioco su 1-0. Zulina con il basso, il gioco il gioco il gioco, il gioco il gioco il gioco, 2-2, Artorini Zulina con il gioco il gioco il gioco. Zulina con il gioco, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Zulina con il gioco, Antonini Zulina, con Bayern Zambouel, 1-4, 5-4, 15-4, Zulina con il gioco il gioco, 3-4. Zulina con il gioco, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. E' una possibilità per il gioco, è la scuola, la scuola è la scuola, 1-0. e il giugno di Antonini Giulina e il giugno di rispondere a 8 minuti Giulina il giugno di Pallaname il giugno di 1-1 Antonini Giulina la 27 minuti è il giugno di giugno di giugno Rossini Giulina il giugno di 4-3 Antonini Giulina la fine . Antonini Giulina 1-2-1 Klasse Vavol 3-2-2 2-3 3-3 3-4 3-3 3-4 3-4 3-4 4-3 Sì La Chancione per la Torre! Tor! 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 Lugano ha lato di l'angrazione Lugano ha avuto l'angrazione e la Chancione Lugano... e poi è Rossini 1-0 per Lugano Lugano ha avuto l'angrazione 3-0 e esplendido! Le 3-0 Il è finito Lugano ha avuto il Lugano ha avuto la colta Ancaldi Lugano ha avuto l'angrazione Lugano ha avuto il Noglio ha avuto il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.